portiamo a casa facile 3 e azione aspetta dopo 40 anni noi facciamo il mercatino di delizionale dove trovate tutti i nostri prodotti un attimo, aspetta sta morendo il fondo è del nostro territorio vale se fosse del coccodrillo però dovremmo farlo a 600 grado però coccodrillo? si fa dai lo so che non era chiusa però ci sta cioè tremenda